Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise, la sanità in apertura del nostro telegiornale, una giornata molto frenetica dopo la notizia della chiusura del punto nascita di Termoli, reazioni a tutti i livelli nel mondo politico e non solo dai consiglieri ai comuni della Basso Molise, dai sindaci fino ai parlamentari e al governo, poi anche le precisazioni dell'ASRE, ma andiamo con ordine e raccontiamo la giornata partendo dal servizio di Fabrizio Occhio Nero che ripercorre le ultime tappe della vicenda. Chiude il punto nascita dell'ospedale Santimoteo di Termoli, è quanto stabilisce il provvedimento a firma dei commissari Angelo Giustini e Ida Grossi e trasmesso al direttore generale dell'ASRE, Gennaro Sosto, e per conoscenza al governatore Donato Toma. Una decisione nell'area da tempo, ora formalizzata, che rappresenta una sconfitta concreta per tutto il Molise e che, ancora una volta, ha scatenato solo un rimpallo di responsabilità politiche e scarica barile. Alla base del decreto vengono riportati parametri nazionali non rispettati, che prevedono almeno 500 parti all'anno, ma anche la carenza ormai cronica di personale dell'unico ospedale rimasto in Basso Molise e i vari tavoli tecnici in cui era stato già affrontato il problema. Al Santimoteo di Termoli, in sostanza, non nasceranno più bambini. Una decisione al centro di un incontro tenuto in sala consigliare tra numerosi sindaci, commissari e i vertici ASREM. Guardate, c'è il sindaco, i sindaci... Voi siete il commissario della sanità. Chiediamo se è confermata la chiusura. Che cosa avete comunicato oggi? Niente di più, niente di meno. La chiusura dal punto nascita. Da quanto? Scusate, è già firmato? Da quando? Vogliamo una conferma? Ci sono margini per un ripensamento? Il sindaco che è lì, con i sindaci, vi diranno tutto. Ci sono i margini per un ripensamento? Buonasera. La comunicazione dei commissari darà ora corso lo smantellamento del punto nascita, con tutte le inevitabili conseguenze per le mamme in attesa, che a questo punto potranno partorire a Vasto o a Campobasso. Il 30 giugno è l'ultimo giorno in cui possono essere effettuati i ricoveri per donne che devono partorire. Stiamo parlando di punto nascita, non parliamo del reparto di ostetricia e ginecologia. Le cose sono ben diverse. Purtuttavia, siamo arrivati a questa soluzione drastica. Speriamo che abbia un ritorno, cosa che sicuramente non vediamo vicino. e comporterà che poi nella prima settimana di luglio, quindi dal 1 luglio al 7 luglio, dobbiamo smaltire qualsiasi attività nei confronti di donne in gravidanza. Significa che dall'8 luglio, se ci sono ancora presso il reparto di ostetricia di termoli delle pazienti gravide, dovranno essere trasferite. Di conseguenza, immagino che gli ultimi nati di termoli saranno non oltre i primi di luglio. Sposteremo l'attenzione dai tavoli molisani, istituzionali molisani, ai tavoli romani. Abbiamo avuto quattro ore di confronto con i tecnici della sanità, quattro ore dove i sindaci del Basso Molise hanno cercato di difendere il nostro ospedale e continueremo a farlo. Da un punto di vista politico nazionale, a partire dal ministro Grillo dei Cinque Stelle e al MEF, questa regione per loro non esiste, salvo quando ci chiedono di fare sacrifici. Intanto lunedì alle 10 è prevista una manifestazione organizzata dal gruppo Facebook delle mamme davanti all'ospedale, dove a breve non potranno più nascere bambini. I sindaci sono pronti a condividere azioni di protesta più incisive, ma la strada è ormai segnata e richiama un'attenta e amara riflessione. Siamo pronti anche a formulare le nostre dimissioni di tutti e 80 i sindaci dei comuni del Basso Molise, andare dal Presidente della Repubblica Mattarella, e ci dovrà garantire che non esistono cittadini di serie A e di serie B, ma che anche noi abbiamo dignità in questa nazione e soprattutto abbiamo la necessità di salvaguardare la salute dei nostri cittadini, il futuro dei nostri figli, il futuro di questo territorio. Il punto nascita di Termoli è stato chiuso perché il Comitato percorso nascita nazionale non lo ha giudicato conforme agli standard di sicurezza per mamma e bambino. E questo perché in pochi anni la natalità a Termoli è scesa da 500 parti a poco più di 300 all'anno. Il direttore generale dell'ASREM Sosto ha spiegato i motivi della chiusura in conferenza stampa ribadendo l'impossibilità di sottrarsi alla decisione. La considero comunque una sconfitta. Ha detto, sentiamo. Una decisione inevitabile arrivata da Roma. Il punto nascita di Termoli aveva praticamente il destino segnato nel momento in cui il numero di bambini impartoriti al Santimoteo è calato drasticamente in pochi anni da 500 a più o meno 300. Un po' perché molte mamme termolesi hanno preferito l'ospedale di Vasto, un po' perché le nascite sono in calo in tutta la regione e il Comitato percorso nascita nazionale ha giudicato la neonatologia di Termoli come non sicura per mamma e bambino. Perché come nessuno si farebbe operare da un chirurgo che fa una sola operazione all'anno, così una partoriente non può essere assistita da un medico che fa nascere pochi bambini. Questa sembrerebbe la logica del Comitato. A ribadire i motivi della decisione è stato il direttore generale dell'ASREM a Gennaro Sosto in conferenza stampa con il commissario Giustini. È comunque una sconfitta per tutti noi, ma non si poteva fare nulla, neppure ottenere una deroga, ha detto Sosto. Diciamo le attenuanti di aver provato a fare tutto il possibile, me le riconosco, comunque di una sconfitta rimane per quanto mi riguarda, per quanto vuol dire essere un manager della sanità, andare a chiudere un'attività al di là che sia un'attività di un punto nascita o comunque un'attività ambulatoriale è pur sempre una sconfitta, soprattutto se questa attività è prevista nella tua riorganizzazione, non è l'organizzazione che hai. Parere di deroga che però pare sia stato chiesto ed ottenuto per Isernia e a dirlo è il ministro Grillo che ha anche aggiunto che il parere positivo è stato concesso in cambio della chiusura di Termoli, visto che da Termoli le donne vanno a partorire a vasto e la città adriatica non è situata su un territorio difficile come sarebbero i comuni dell'Isernino. Masosto ha assolutamente negato che ci sia stato un baratto. Termoli non è stata sacrificata ma chiusa per non raggiungimento dello standard di sicurezza e punto. Scattano delle dinamiche che sono una serie di condizioni che sono già standardizzate dal Comitato percorso nascita. Cioè in alcuni siti si guarda la condizione erogeografica ma poi si guardano i numeri delle natalità. Nel momento in cui è stata chiesta da parte della regione una deroga e l'Isernia stava già sui 500 parti, quindi in una fase di recupero rispetto ad una situazione di qualche anno prima che era più bassa. Sosto ha anche precisato che l'ospedale di Termoli è assolutamente in grado di assistere le donne in tutte le fasi pre e post parto ma i bambini potranno nascere a Campobasso perfettamente capace di accogliere le partorienti termolesi. Un'eventualità difficile visto che vasto è sicuramente più vicina. Il direttore generale ha anche ipotizzato un ripensamento futuro ma è un falso ottimismo, non si comprende come non nascendo più bambini a Termoli Termoli possa dimostrare di aver raggiunto i 500 parti annui che servono per mantenere aperto il punto nascita. Piuttosto è più verosimile pensare che nel tempo resterà un unico punto nascita in tutta la regione, soprattutto considerando che la situazione complessiva della sanità regionale è critica. Mancano i medici, pronto soccorso sono in affanno, non ci sono ortopedici e i concorsi vanno deserti. Abbiamo delle difficoltà in quelle attività, in quelle tipologie di attività dove non riusciamo a recuperare il numero di risorse umane tali da garantire quella che era la nostra organizzazione. Tra attacchi, contraattacchi, ripensamenti e miracoli annunciati ai molisani appare sempre più chiaro che il problema della sanità si risolve solo affrontando la questione con il Governo nazionale pretendendo da questo risposte convincenti ed adeguate. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Michele Iorio che ha proposto un baffadei a sostegno dei nostri ospedali contro i burocrati romani. È a Roma aggiunto che occorre far capire, con tutta la determinazione necessaria, che i 136 comuni molisani hanno diritto ad una sanità degna del terzo millennio. Secondo Iorio, anche con il cosiddetto governo del cambiamento i burocrati sono gli stessi, la logica ragioneristica è la stessa, le conseguenze sono le stesse. Il problema non sono i commissari, ha argomentato l'ex governatore, anzi, quelli attuali sono persone capaci, inviate in Molise ad eseguire gli ordini provenienti da Roma sul suggerimento del tavolo tecnico, loro eseguono decisioni sbagliate. Per questo motivo, ha concluso Iorio, chiedo a Toma di aprire una discussione in consiglio regionale e anche a supporto dell'azione che i sindaci del Basso Molise vogliono intraprendere coinvolgendo il Presidente della Repubblica, Mattarella. Ho sempre difeso la nostra sanità, ha dichiarato Aida Romagnolo, soprattutto quella di Larino e Termoli, perché è la più penalizzata, ma ho difeso anche quella di Agnone e Venafro. A questo punto, ha concluso la consigliera regionale, propongo che insieme a me, in qualità di consigliere regionale, si dimettano tutti i sindaci, gli assessori e consiglieri dei comuni del Basso Molise e anche qualche altro consigliere regionale. In Molise vogliamo che il diritto alla salute sia garantito a tutti, lo ha dichiarato la deputata di Liberi Uguali, Giuseppina Occhio Nero, nel suo intervento oggi alla Camera. Dove sono finiti i ministri che hanno sfilato in passerella nel Molise alle ultime elezioni, ha chiesto in aula Montecitorio. Ma sentiamo il suo intervento, sentiamo l'intervento del parlamentare molisano. Grazie signora Presidente. Prendo la parola per denunciare una situazione di emergenza che si è verificata nel mio Molise. È di poche ore fa la notizia che il commissario ad acta della sanità della regione Molise ha firmato la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Termoli. Bene, un fatto di inaudita gravità deciso in sintonia con il tavolo tecnico, un organo abominevole fatto di burocrati, di ragionieri, che conti alla mano decidono come e cosa fare della sanità molisana. E lo fanno in completo disprezzo di quelli che sono i diritti alla salute, il destino delle donne che devono partorire e dei bambini che devono nascere, ma anche degli anziani, dei cardiopatici. Vedete, spostano, tagliano solo perché la regione Molise è una regione in rientro dal deficit. Ma io dico una cosa, il diritto alla salute non è forse un diritto di tutti? E allora nel mio Molise si muore perché l'attacca è rotta, perché il pronto soccorso è chiuso e ora non si potrà nemmeno più nascere. Ma dove sono finiti tutti i ministri di questo governo, che facevano lunghe passerelle nelle strade del mio Molise? Dove sono adesso? Io mi chiedo. Il ministro Grillo ieri ha detto che non servono soluzioni fantasiose per risolvere il problema della sanità in Molise, come ad esempio i medici militari. Bene, io dico una cosa, voi non solo non avete buonsenso, ma certo non avete nemmeno fantasia. E allora io mi chiedo, falce alla mano, come fate a tagliare di qua e di là, senza nemmeno rendervi conto che stiamo toccando i diritti alla salute dei nostri concittadini? Bene, io dico questo, attenzione, non solo il Molise esiste, ma il Molise continuerà a esistere, nonostante le scelte scellerate di questo governo. Grazie. E l'ex senatore Ulisse Di Giacomo si chiede il perché dell'assenza dell'ex presidente della Regione Frattura nella riunione della conferenza Stato-Regioni del 4 agosto 2014, quando era possibile bloccare questa ed altre storture prodotte dal decreto Balduzzi. Frattura inoltre, prosegue Di Giacomo, fece inserire il suo piano operativo straordinario nella legge finanziaria del governo, così tutte le storture divennero legge dello Stato. E' un incontro urgente con i vertici ASREM, il presidente della Regione Donato Toma, il direttore generale dell'ASREM Gennaro Sosto, il direttore è quanto richiesto dal Forum per la Sanità Pubblica. Cambiamo ora argomento, Assemblea regionale del PD per analizzare la sconfitta elettorale delle ultime amministrative per impostare una nuova stagione politica in grado di recuperare il rapporto con i cittadini senza escludere alleanze con il Movimento 5 Stelle. Giovanni Minicozzi ha intervistato il segretario regionale Vittorino Facciolla. Sentiamo. Vittorino Facciolla, Assemblea regionale del PD aperta un po' a tutti, anche ai movimenti civici. Ecco, intanto il centro-sinistra ha perso due importanti amministrazioni, Campobasso e Termoli. Come pensate di ripartire? Io ho fatto una relazione poc'anzi dicendo che il centro-sinistra ha bisogno di costruire un rapporto con i cittadini. E siccome questa è una facilissima frase fatta, che la si sente sempre e dappertutto, viene abusata, l'unico modo per rendere credibile questa valutazione, questa dichiarazione di scienze, è quello che può pensare davvero ai cittadini. E noi abbiamo cercato di fare questo, attraverso questo incontro con i cittadini, che sarà replicato più volte in ragione di spazi monotematici, che saranno discursi oggetto di una discussione sulla sanità, sulle politiche sociali, sul green, sulle pratiche del verde e dell'ambiente. Lo faccia dove serve? Lo faccia qua in assemblee attraverso un afflato recuperato con i cittadini. Lei ha parlato di un PD e di un centro-sinistra allargato. Ecco, con chi sono i vostri futuri compagni di viaggio? Guarda Giovanni, noi siamo al 22% a livello nazionale, a livello regionale siamo al di sotto di questa soglia. Non siamo autosufficienti e non possiamo essere autoreferenziali. È evidente che il mondo del centro-sinistra non è solo il Partito Democratico. E se il Partito Democratico ha una vocazione maggioritaria, lo deve dimostrare, quindi deve aprirsi agli altri partiti di centro-sinistra, io ritengo che sia utile. In Italia e in Molise si discute di un possibile accordo con il Movimento 5 Stelle. Ecco, lei come la pensa? Giovanni, io dico che gli accordi su base programmatica si possono fare con chiunque, a sistemi elettorali immodificati, con l'attuale legge elettorale, sia nazionale che regionale, al di là della vocazione maggioritaria del nostro partito. Resta il tema di dover discutere di alleanze. Le alleanze le fai su base politica, le fai su base programmatica. Dobbiamo iniziare a scrivere, che programma condiviso può offrire ai potenziali alleati un programma di governo che sia pedibile. Ma i 5 Stelle possono essere potenziali alleati del PD? Possono chiaramente essere potenziali alleati del Partito Democratico, come in teoria potrebbero esserlo i partiti centristi, là dove aderiscono al nostro programma. Gli accordi si vanno su base politica, lo ripeto, su base programmatica. Non siamo autosufficienti, né autoreferenziali. Cerchiamo di essere quantomeno intelligenti. Un imprenditore di 56 anni, originario di Trevento, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a San Salvo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo titolare della ditta stava effettuando una manovra con la gru quando sarebbe stato colpito da alcune tavole di legno. Sul posto il 118, i carabinieri che hanno effettuato i rilievi ed ascoltato gli operai per fare chiarezza sulle cause della morte. A distanza di un mese dal suo insediamento, il rettore dell'Università del Molise, Luca Brunese, traccia il percorso per il prossimo anno accademico e rilancia le sue idee per promuovere l'Ateneo oltre i confini regionali. Obiettivi prioritari? La ricerca, i rapporti istituzionali, la modernizzazione e il coinvolgimento di docenti e studenti. Sentiamo. È stato eletto lo scorso 8 maggio e si è insediato la settimana successiva al vertice dell'Università degli Studi del Molise. Luca Brunese, già preside della Facoltà di Medicina, si è messo subito al lavoro per concretizzare il suo programma nei tempi stabiliti. Personaggio di spicco del mondo accademico italiano e internazionale, Brunese, predilige il rapporto diretto e il coinvolgimento di tutto il personale, docente e non docente, e degli studenti. Particolare attenzione all'integrazione dell'Ateneo con il territorio e con le istituzioni. Con la massima simpatia propria della sua personalità, Luca Brunese racconta il suo primo mese da rettore. Diciamo che è stato un mese molto intenso, di grande lavoro e di grande inizio di un nuovo ciclo. Ho trovato l'Università che naturalmente conosco bene con tanta voglia di fare tante cose. Per me questo è già motivo di grande soddisfazione. Abbiamo già cominciato a mettere in cantiere le prime cose, abbiamo chiuso l'accordo sullo sviluppo del piano turistico insieme al Dipartimento di Economia, abbiamo già cominciato una serie di attività sull'archeologia. Cose interessanti per il futuro dell'Università. Ecco, si chiude un anno accademico tra qualche mese e due mesi se ne apre un altro. Quali sono gli obiettivi per il nuovo anno accademico che lei gestirà totalmente? Diciamo che abbiamo un nuovo grande obiettivo ed è un nuovo, non voglio dire patto e troppo, ma accordo con gli studenti di grande sviluppo dei servizi che l'Università farà per gli studenti. Utilizzare il nostro potenziale e anche diciamo le nostre dimensioni per aumentare di molti servizi per gli studenti stiamo concordando, stiamo lavorando col Consiglio degli studenti. Io mi sono simpaticamente fatto interrogare dal Consiglio degli studenti e abbiamo messo insieme tante iniziative che io penso per il prossimo mese vedranno anche una luce pubblica. Anche faccio un invito al mio intervistatore di stasera e spero che potremo organizzare una cosa con gli studenti per presentare un vero e proprio manifesto dei servizi che l'Università realizzerà per gli studenti. Quale rapporto con il territorio e con le istituzioni della Regione compresi i docenti dell'Unimo? In questo momento io punto molto sul ruolo centrale dell'Università nello sviluppo con la Regione e questo su tanti argomenti. Ho fatto prima riferimento al piano sul turismo ma ne avremo altre di interlocuzioni nelle quali questo accordo porterà sicuramente risultati positivi. Io conto anche su una parte sperimentale in ambito di medicina in ambito delle applicazioni del Greto Calabria che mette insieme delle novità e degli possibili utilizzi degli specialisti in formazione anche ai nostri e anche di altri atenei che noi potremo cercare di veicolare nella rete ospedaliera del Molise. Nei prossimi giorni si laureeranno una quarantina di medici alla Facoltà di Medicina ecco questa novità può sopperire alla carenza in qualche modo? I problemi sono due c'è un problema strutturale per il quale ci vuole tempo mentre noi oggi abbiamo bisogno di una risposta quasi in emergenza secondo me va lavorato su due livelli se non mettiamo oggi in piedi la risposta di domani domani saremo ancora in emergenza in qualche modo va trovata una soluzione che possa rispondere ai bisogni della regione della sanità regionale in questo momento e questa è già un'operazione che ci consente invece di traghettare un futuro più vicino. Rettore Brunese tanti impegni importanti che lei sta apprendendo ma lei sa anche che noi verificheremo poi in concreto quello che accadrà e che cosa accadrà con il nuovo anno accademico. Allora le università sono sottoposte a valutazione del sistema l'Ambur l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario noi abbiamo progettato un tabellone che avremo nello studio del Rettore nel quale porteremo avanti gli avanzamenti di tutti i progetti che abbiamo in essere. il primo tabellone riguarda proprio quello degli studenti i servizi che noi pensiamo di lanciare già dal mese di settembre. Intanto Brunese ha incontrato gli ex studenti dell'Unimol poiché da buon saggio sa che senza il passato non c'è futuro. E veniamo a Campobasso Centro Storico e Mobilità sono i primi atti dell'amministrazione Gravina che mirano alla valorizzazione del Centro Storico di Campobasso al miglioramento dei collegamenti con la frazione di Santo Stefano due progetti che rientrano nel contratto di sviluppo per il Molise e che verranno a giorni presentati a Palazzo Chigi. Pasquale Di Bello Partenza sprombattuto per l'amministrazione Gravina pronta a presentare già il prossimo 2 luglio due progetti destinati a rivoluzionare la mobilità del Comune di Campobasso con particolare riferimento al Centro Storico della città e ai collegamenti che riguardano la frazione di Santo Stefano due progetti che si riferiscono entrambi al contratto di sviluppo per il Molise e che verranno presentati proprio il prossimo 2 luglio a Palazzo Chigi al Governo Nazionale Particolarmente incisiva sarà la rivoluzione dei collegamenti all'interno del Centro Storico con la prevista costruzione di un parcheggio sia raso che multipiano ed una serie di collegamenti garantiti da ascensorie scalinate e da una funicolare che partirà nella zona adiacente all'Agenzia delle Entrate e che porterà in cima alla collina dominata dal Castello Monforte e un modo questo fanno sapere dall'amministrazione Gravina per evitare da un lato il fenomeno dello spopolamento del Centro Storico e dall'altro per favorire lo sviluppo economico e patrimoniale di un'area particolarmente svantaggiata da un lato quindi uno stop all'emoragia demografica del Centro Storico dall'altra il rilancio dello stesso in chiave turistica a questo primo progetto se ne aggiunge un secondo quello della realizzazione di una strada interpoderale di collegamento tra la frazione di Santo Stefano con la Fondovalle del Rivolo una infrastruttura quest'ultima che avrebbe ricadute positive sia sulla comunità residente che sulla città di Campobasso afferma sempre Gravina che beneficerebbe per prima di un miglioramento della qualità dei servizi Parere positivo del provveditorato e alle opere pubbliche di Campania Molise per il progetto di recupero funzionale del viadotto Sente chiuso da mesi per problemi strutturali come è noto il viadotto tra i più lunghi d'Italia collega l'Alto Molise all'Abruzzo e la sua chiusura ha arrecato gravissimi danni all'economia cittadina alle scuole e all'ospedale di Agnone Enzo Di Gaetano Sia ai lavori sulla terza pila in cemento ma per la riapertura del viadotto Sente Longo chiuso a metà settembre dello scorso anno sarà necessaria prima un'approfondita analisi geologica sull'intera infrastruttura e quanto emerso dall'incontro a Napoli dove il consigliere regionale Andrea Greco e il presidente reggente della provincia di Senia Roberto Di Pasquale hanno incontrato il comitato tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Campania e Molise è stato un incontro positivo perché abbiamo incassato l'ok sull'esecuzione delle nuove opere che interesseranno la pila in cemento traslata ha dichiarato Andrea Greco in un suo video postato su Facebook tuttavia affinché si torni a circolare sull'importante arteria bisognerà ottemperare ad alcune prescrizioni quali la revisione totale del viadotto a riguardo lo stesso Andrea Greco ha annunciato che insieme al consigliere regionale Vittorio Nola al deputato abruzzese Carmela Grippa e ai tecnici della provincia di Sernia questa mattina sarebbe andato a Roma presso la direzione generale dell'ANAS in quella sede sia Greco che tutti gli altri hanno chiesto all'ANAS di prendere in carico le nuove opere e la revisione generale dell'infrastruttura tramite una convenzione ad oggi ad oggi l'ANAS è l'unico soggetto che grazie a uomini e mezzi a disposizione è capace di poter gestire la riapertura del Sente Longo in merito vogliamo essere ottimisti soprattutto in virtù di contatti avvenuti in precedenza ha aggiunto il consigliere regionale di Agnone quella del Sente è una problematica che ci sta a cuore perché capiamo perfettamente gli enormi disagi provocati a imprenditori studenti lavoratori pendolari che quotidianamente attraversavano l'arteria per venire in ospedale a scuola o a lavorare ad Agnone come ben si ricorderà per le nuove opere attese sul viadotto Sente l'attuale governo tramite il decreto Genova ha investito circa 2 milioni di euro ma sarà davvero difficile che bastino per rendere di nuovo percorribile il viadotto Nella cornice della prestigiosa caserma Zanzur di Napoli sede del comando interregionale dell'Italia meridionale della guardia di finanza il comandante interregionale generale di corpo d'armata Ignazio G. Bilaro ha consegnato un attestato di encomio solenne al colonnello Vito Simeone comandante provinciale della guardia di finanza di Sernia al tenente colonnello Antonio Matteo Stoico comandante del nucleo di polizia economico finanziaria al luogotenente Mario Bernava e al maresciallo aiutante Piero Messere relativamente ad una importante attività conclusasi con la denuncia di 13 persone responsabili a vario titolo di reati tributari riciclaggio bancarotta fraudolenta e 4 dei quali destinatari di ordinanza di applicazione di misure cautelari personali creare un ponte tra la società civile e il mondo della politica e delle istituzioni sono queste le finalità dell'associazione Il Bello che avanza siamo noi fondata a Milano o ha da poco messo radici anche in Molise la presentazione ufficiale durante un incontro convocato al comune di Isernia Sergio Di Vincenzo partecipare attivamente alla rinascita del proprio territorio mettendo in campo iniziative di carattere culturale sociale di tutela delle persone della salute e del loro ambiente affinché si crei benessere tra i cittadini sono queste alcune delle finalità del Bello che avanza siamo noi l'associazione con sede a Milano che ha da poco messo radici in Molise per raggiungere lo scopo ci si attiverà per creare un ponte tra la società civile e il mondo dell'istituzione e della politica la presentazione ufficiale nella sala Raucci del comune di Sernia dove per l'occasione è intervenuta la presidente Margareta Florea le finalità sono quelle che sono partite da Milano di creare un ponte tra la società civile e le istituzioni nell'interesse delle persone della società in campo sanitario in campo culturale sociale e queste sono le finalità immediate e far prendere conoscenza e coscienza le istituzioni che c'è il bello il bello quello sommerso noi siamo già partiti da Milano con dei progetti in campo sanitario perché la salute è un diritto il ruolo di coordinatore molisano dell'associazione è stato affidato a Daniela Iannotta già al lavoro per individuare le problematiche da affrontare e possibilmente risolvere nella nostra regione nell'ambito dell'associazione saranno costituite delle commissioni in particolar modo nella regione molise ne saranno costituite quattro una commissione cultura istruzione e lavoro una commissione per le politiche sociali una commissione giustizia e legalità e una commissione sanità e ambiente che scopo avranno avranno lo scopo di poter dare concretezza a tutte le esigenze della cittadinanza le esigenze poi di tutti noi le pari opportunità e la lotta alla violenza di genere rappresentano alcune delle priorità dell'associazione culturale non a caso il collegamento tra i serni e Milano è stato creato proprio grazie a un'iniziativa dedicata a queste problematiche l'associazione si è già occupata di violenza di genere insieme a noi insieme al centro antiviolenza che è sorto a settembre abbiamo intrapreso questo percorso appunto un anno fa con l'evento regionale che abbiamo organizzato il 25 gennaio proprio contro la violenza di genere e abbiamo voluto fortemente questa associazione con la presidente con la partecipazione della presidente e del vicepresidente l'onorevole Luca Toccalini ci hanno onorato della loro presenza e insieme a loro adesso con l'apertura di questa sede a Disernia continueremo sicuramente su questo percorso portando avanti altre iniziative e a Campobasso è stato presentato il trailer del docufilm dal titolo Adriatico Il mare che unisce l'iniziativa rientra nel progetto promosso dall'assessorato al turismo per tutelare e valorizzare le minoranze linguistiche presenti in Molise Anna Maria Di Matteo L'Adriatico Il mare che unisce il titolo del docufilm iniziativa che rientra nel progetto promosso dall'assessorato regionale al turismo per la valorizzazione e la tutela delle minoranze linguistiche sono sette i comuni coinvolti con Acquaviva con le croce che il comune capofila all'ex Gile la presentazione del trailer del documentario le minoranze linguistiche delle nostre comunità soprattutto albanese e croate custodiscono gelosamente la loro storia le origini la cultura di questi popoli e attraverso l'Adriatico vuole essere proprio un bond di unione con l'altra sponda proprio per sviluppare quelli che sono eventuali rapporti non solo culturali ma anche turistici ed economici Quindi un docufilm che tratta proprio di questo argomento e l'iniziativa ovviamente vede la regione l'assessorato in prima linea Assolutamente è stato promosso proprio dall'assessorato ed è un docufilm che Sarai parteciperà al Festival dei diritti umani di Napoli e contribuirà a portare alto i valori di queste nostre aree interne e perché no l'immagine della nostra regione stessa E poi ci sono le minoranze linguistiche da tutelare anzi valorizzare Assolutamente sì ma anche perché sono comunità che ci tengono particolarmente alla loro storia e la regione credo che abbia il dovere di potergli essere vicini a fianco sempre domani alle 18 presso il Carpet Apartment in via Erculanea 45 a Campobasso verranno presentate le opere dello Scambio Internazionale degli Artisti organizzati da Aratro Galleria Gino Marotta Laboratorio d'Arte Contemporanea dell'Università del Molise il progetto è denominato Interreg Monè prevede tra le altre cose la creazione di una rete museale sul territorio l'acquisizione di nuove attrezzature per i musei per consentire una migliore accessibilità delle collezioni utilizzando le moderne tecnologie i lavori realizzati in Molise faranno parte di una grande mostra collettiva che si realizzerà nel 2019 in sette grandi musei del Montenegro Albania e Italia prestigioso riconoscimento per il Coriolis e l'Hotel San Giorgio individuate tra le aziende più performanti della regione all'Eden della famiglia Damiano il premio Industria FELIX 2019 a Bari la cerimonia di premiazione in collaborazione con Confindustria e l'Università Luiz Guido Carli Tonino Danese Tra le aziende primatiste di bilancio e più performanti a livello gestionale di Puglia Basilicata e Molise c'è il gruppo Eden di Marcello Damiano gruppo molisano di Campobasso che ha ottenuto il premio Industria FELIX 2019 ieri a Bari a Villa Romanazzi Carducci la cerimonia di premiazione l'importante riconoscimento è stato assegnato dopo un'attenta analisi dei bilanci dell'impresa da parte del Comitato Scientifico del Premio Nazionale in collaborazione con Confindustria e l'Università Luiz Guido Carli di Roma l'amministratore del Coriolis di Ripa Limosani e dell'Hotel San Giorgio di Campobasso Marcello Damiano ha voluto sottolineare il quotidiano impegno del gruppo per offrire al grande pubblico servizi di ristorazione di eccellenza e turistico ricettivi di qualità sempre migliore dedichiamo questo importante riconoscimento a tutti i nostri ospiti che da 43 anni scelgono i servizi Eden ha detto siamo felici di investire risorse nella nostra regione dal 1976 di contribuire allo sviluppo e alla ricchezza del Molise grazie a un attento lavoro di squadra ha spiegato il premio a Bari è stato ritirato da Amalia Damiano in rappresentanza della famiglia fondatrice del gruppo Eden e da Manuele Martelli responsabile marketing ed eventi dell'azienda la promozione del territorio attraverso le sue molteplici sfaccettature hanno detto con orgoglio fa parte del nostro DNA costruire turismo di spessore attraverso i suoi servizi offrire esperienze gastronomiche sempre innovative investire nella ricerca e nella sperimentazione di nuove emozioni da offrire ai nostri ospiti è la inamovibile nobile mission istituzionale che perseguiamo grazie a un consolidato lavoro di squadra da parte di tutte le professionalità impegnate nella nostra azienda hanno aggiunto Amalia Damiano e Manuele Martelli che hanno anche evidenziato come numerose siano le iniziative in cantiere ulteriore innovazione nel campo dei matrimoni e della grande banchettistica dopo l'inaugurazione della cucina emozionale un'enciclopedia del gusto Eden che racchiude 600 pietanze d'eccellenza consolidamento dei rapporti con il territorio con eventi a livello regionale che coinvolgono il mondo della cultura e dello sport in senso esteso diversificazione dei servizi turistici che già vengono offerti all'hotel San Giorgio di Campobasso con cui si è riusciti ad arrivare a fette di mercato estero sempre più consistenti soprattutto delle Americhe e del Nord Europa al Molise i nostri ospiti a tutti i nostri collaboratori dedichiamo questo premio con la promessa di fare sempre meglio hanno concluso la titolare responsabile marketing del gruppo e tra le aziende molisane che hanno ottenuto il riconoscimento oltre al gruppo Eden ci sono anche per la provincia di Campobasso la 3P azienda di trasporti Molisana il CUS di Cero SH Exibit Design la Molisana e Sirio Perisernia Salus Cisar Democop e Diorio di Frosolone che produce Bibite e Acqua una delle aziende più longeve d'Italia che si sta fermando sempre di più anche a livello internazionale e prima di concludere un appuntamento domani presso la sala CONI in via Carducci a Campobasso in programma la presentazione del libro Evangelii Gaudium la staffetta dei preti Runners sulle pendici dell'Etna scritto dal molisano Pasquale Castilli appuntamento a partire dalle 18 questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito a tutti voi una cordiale buonanotte a partire a partire di